Toto allenatore, sono giorni decisivi, presto sarà fissato vertice con Alberto Colombo, ultima stagione alla guida del Monopoli, rivelazione del Girone C al pari del Faggia di Zeman, appunto il Boemo. In questo momento Colombo sembrerebbe condizionale di rigore in vantaggio, ma resiste la candidatura del tecnico di Praga, artefice nel 2012 proprio con Delicarri DS di un autentico capolavoro. Promozione in A e calcio stellare, il più spettacolare nella storia del Pescara. In questo momento gli unici contatti sono stati avviati proprio con Colombo. Domenica scorsa Delicarri ha sondato e ottenuto via telefono la disponibilità dell'allenatore Lombardo. Servirà naturalmente ad un incontro per discutere di piani e strategie, oltre che dell'aspetto contrattuale che non dovrebbe riservare sorprese. Colombo era stato accostato all'Ascoli, che in realtà sta per chiudere con Pippo Inzaghi, altresì interessato all'ex tecnico del Monopoli il Cosenza, che tuttavia deve rimpiazzare il DS Goretti in procinto di firmare con la Reggiana. Dunque tra Pescara e Colombo il faccia a faccia è imminente, forse sarà decisivo, ma attenzione, resiste l'opzione Zeman, a cui Delicarri sta seriamente pensando. Se così fosse si capirà tutto. A prescindere da Zeman, se Delicarri avrà la forza di fare una scelta sua, vorrà dire che certe dinamiche sono cambiate. Non è affatto poco se solo si pensa a quanto accaduto negli ultimi 3-4 anni.